ciao sebastian buongiorno buongiorno roberto come va tutto bene grazie sì sì tutto ok guarda quando parlo di rugby poi va sempre benissimo quindi lo faccio più che posso allora senti sebastian paul revat zariz che origini familiari hai tu allora io mia madre è francese americana e mio padre è giorgiano io sono nato a new york e e ho girato un bel po sì infatti new york 7 novembre 1999 ti faccio gli auguri anche se un po in ritardo ma diciamo che appena con tutto gli anni grazie mille come festeggiato con una partita con la serie b è stato molto divertente anche se sono sceso di categoria divertirmi con i ragazzi che è un gruppo che conosco molto bene da quando sono arrivato qui a viadana e mi sono legato molto a loro ma senti avevi bisogno di fare minutaggio no non in particolar modo però era una scelta della natura volentieri beh almeno cioè almeno giochi esatte quello più importante senti un metro e ottanta per 92 kg vuolo centro estremo sì ti trovi bene di fermi so che a volte hai fatto anche numero 10 mediano in accademia in accademia ho giocato qualche partita 10 però gioco più centro e all'occasione anche estremo ok quale preferisci dei due centro resteremo centro centro sì se ho sempre giocato centro fin dall'under 16 è un ruolo che mi piace molto e immagino immagino senti tu hai il doppio passaporto americano e francese esatto ma adesso hai visto che dal 26esimo posto nel ranking si può giocare con il paese di origine sì ho visto ho visto io intervistato antonio luisi che vice presidente di fir ha pubblicato la settimana scorsa dove appunto abbiamo trattato questo argomento che per alcuni tuoi colleghi del top 10 era abbastanza importante perché volevano tornare tipo stecchi che gioca nel valor agli voleva tornare a giocare per la sua nazionale in iran e li avevano bloccati poi dopo finalmente sono bloccata la situazione tu anche tu hai la possibilità di giocare vabbè o in francia vabbè lì nel ranking non siamo certo oltre il 25esimo posto però con la con la nazionale americana gli stati uniti se non sbaglio la l'america è nel top 20 quindi però è sempre un obiettivo che mi è per l'eleggibilità loro c'è dopo diventa un problema nel club per l'eleggibilità perché infatti il il focus della della dell'incontro con luisi era proprio questo cioè se tu sei dentro nei ranking entro i 25 diventa un problema proprio perché diventi uno straniero in più esatto tu invece sei formazione italiana avendo fatto l'accademia tutto il percorso accademico ho ottenuto la formazione italiana si tu hai iniziato a giocare a nove anni c'è in svizzera l'ermans club che si trova al confine tra ginevra e la francia sul lago le mano lago di ginevra esatto no esatto si scusa tu hai vissuto lì allora tu sei nato a new york poi mi dicevi che sei venuto via che avevi due anni esatto due anni mi sono trasferito a ginevra per il lavoro di mio padre che lavora all'onu e ci siamo ho vissuto dieci anni lì a ginevra ah ho capito lì iniziato a giocare tu papà ha iniziato a giocare a rugby come hai iniziato a giocare allora io ho scelta scelta mia avevo il nonno che giocava però non ha mai insistito io ho giocato ho fatto molti sport da piccolo iniziando con judo nuoto ho provato anche il calcio però non era per me e da lì avevo dei vicini di casa argentini che mi hanno portato al rugby e da lì non ho più smesso ecco fantastico fantastico senti saltando cambiando un attimo argomento prima di tornare hai fatto le visite per il movember no non l'ho fatto malissimo malissimo lo sai che noi ci dobbiamo controllare noi siamo molto più distratti e così rispetto alle femminile però dobbiamo dare retta anche al nostro corpo e quindi tenerci controllati insomma anche il movember e questo movimento che si occupa del tumore testicolare prostatico le malattie maschili diciamo e quindi ci tenevo a dirlo perché essendo novembre mi sono fatto anche crescere i baffi insieme alla barca perché sui baffi da solo sono orrendo e quindi ho fatto questo però insomma volevo sensibilizzare per il movember che è una cosa molto interessante nel 2012 cambi vita vai via da ginevra e arrivi in italia sì esatto sempre per il lavoro di mio padre ci siamo trasferiti a roma e da lì ho iniziato a giocare per la capitolina club con cui io ho giocato per cinque anni dall'under 14 fino all'under 18 è un club che rimarrà sempre con me lì ti si è elevato anche delle belle soddisfazioni campione d'italia under 16 si si under 16 e poi l'anno dopo siamo arrivati in semifinale poi in under 18 due anni di seguito abbiamo perso in finale però è sempre bello arrivare al punto di giocare sempre le semifinale le fasi finali e beh insomma sai arrivare lì vuol dire che sei comunque forte poi la finale si può perderla in tante maniere anche perché magari ti va un po di sfiga piuttosto che però ti giochi sempre alla finale interessante nel frattempo sei stato chiamato si è stato selezionato per l'accademia federale quale a roma giusto nel 2015 esatto ho fatto di due anni di accademia zonale lì a roma con i 90 98 il primo anno poi i 2000 il secondo entrambi i due anni fantastici che sentite tutto lo aspettavi era un mio obiettivo sempre cioè vedendo anche in under 16 conoscevo già tanti 98 che doveva render 18 ad esempio loro non hanno fatto però c'era vaccari che andavano da esterni e erano chiamati di nazionale giovanile poi c'era conoscevo anche fischetti che lui era dentro e ho sempre voluto farlo quindi ti è andata bene cioè è stato un percorso tu hai fatto da subito diciamo il professionista passami il termine però diciamo che hai sempre puntato molto sulla tua carriera reggistica sì e questa voglia mi è venuta dall'under 16 quando soprattutto dopo che abbiamo vinto il campionato il primo anno con quei miei allenatori che erano marrucci e pompili che adesso allena la mischia del della lazio che loro mi hanno dato veramente tanta voglia di continuare con questo sport di fare questo sport la mia professione senti hanno influito molto loro sulla decisione sì 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 molto il primo anno molto marrucci che posso dire che è stato forse il primo a credere in me perché ero arrivato da da un anno e ancora con la lingua non parlavo molto bene però lui mi ha accolto da subito che l'ho avuto anche in under 14 mi ha accolto veramente bene ma tu quando sei venuti in italia non parlava italiano non zero zero a credevo credevo che tu sapessi già perché oltretutto hai un accento cioè non hai accento no per fortuna ho imparato molto bene giocando cioè giocando a rugby andando agli allenamenti parlando con gli altri ho imparato più lì che che a scuola che quando sono arrivato ho fatto la scuola francese lezioni di italiano vedi poi dopo dicono che il rugby è uno sport per bestie no no sicuramente impari anche le lingue non non so non so se mi spiego eccezionale rugby è buono per tutte le cose senti poi tu nel dici dopo aver fatto l'accademia federale sei andato a remedello sì ne ho fatto due anni due anni lì sempre ho finito il mio percorso federale diciamo ma mi spieghi scusami una cosa come cioè come è stata la come è stato andare a remedello cioè a un certo punto tu eri in accademia che hanno fatto una riunione ti hanno detto saresti disponibile andare al francescato sì a roma ci hanno fatto una riunione in due in tre chiedendoci se davamo la disponibilità poi abbiamo aspettato la lista finale che che quell'anno lì è uscita tardi perché avevano problemi di logistica che l'hanno spostato quella state l'estate da da parma a remedello e fino alla fine non si sapeva non si sapeva niente è arrivata la convocazione a fine agosto penso per te cambiare città non sarà stato un problema visto però cambiare da da roma remedello un pochino si ebbe insomma si remedello non è proprio il centro del mondo diciamola così però è un posto un posto adeguato per concentrarsi solo sul regime senti come ti sei trovato a partecipare all'accademici a quindi andare via di casa stacco dei genitori andare a remedello e iniziare una vita completamente differente rispetto a quella romana anche giustamente come facevi osservare tu prima remedello non è proprio roma o un'altra grande città è stato un po difficile all'inizio però con il gruppo che c'era lì ci siamo legati molto ci ha fatto pesare un po meno il fatto di stare lì lontani dalla famiglia c'era dentro qualcuno che frequenti ancora il primo anno la maggior parte giocano nel top 10 ma quindi vi vedete esatto è sempre bello rivederci alcuni sono arrivati anche in nazionale maggiore quindi è molto bello chi la maggior parte sono del secondo anno con paolo garvisi a te ricordi già marco lucchesi quelli sono quelli che mi vengono in mente adesso poi anche quelli che erano con me in accademia zonale a roma sono arrivati un bel po con l'amaro che è diventato capitano l'amaro a l'amaro scusa mi era del tuo stesso anno era del 18 ho fatto un anno un anno un anno di più beh insomma siete stati sicuramente un bel gruppo perché sono arrivati tutti a degli alti livelli sì sì bello senti sei hai fatto anche tu la nazionale under se del 7 under 17 18 sì hai fatto un po di tutto un po di tutto come è stato il 7 molto bello molto impegnativo dal punto fisico che arrivando a fine stagione continuare su quel su quell'intensità è molto esigente però anche lì è un bellissimo gruppo e c'è solo bei ricordi ciò eri già con noi c'era già arancio come team manager sì 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 orazio che salutiamo razza un amico quindi lo sento sempre molto volentieri lo vedo anche volentieri 2019 arrivi via via dana sì top 10 esatto l'anno dove c'era anche victor rimenez come allenatore che adesso sta parla e si è un bel bel traguardo esordire nel top 10 abbiamo esordito con la coppa italia vincendo con con reggio in casa è stato il migliore esordio che potevo chiedere certo senti passare dall'accademia a un club comunque molto importante come può essere quello di via dana e andare diretto nel top 10 senza passare magari da una serie non ti dico da una c ma da una via d'una lo stacco deve essere cioè forte sì quello che cambia di più l'aspetto fisico i giocatori sono molto più grossi e sia la velocità del gioco che tutti i piani di gioco diversi adesso iniziamo veramente a studiare le altre squadre ed è bello rendere la cosa molto più competitiva diciamo molto più professionistico rispetto a quella che è l'accademia sì sì sicuramente senti cosa ne pensi del fatto che con la nuova governance di fir le accademie siano state chiuse è un peccato alla fine secondo me perché tanti giocatori soprattutto al sud dell'italia non hanno le opportune le stesse opportunità per farsi vedere dall'altro lato penso che il rugby al nord è molto più sviluppato e hanno più opportunità per farsi vedere quindi è un po' un sì e un no diciamo è anche un peccato perché comunque offriva la possibilità di formazione a tanti ragazzi che non facevano solo formazione rugbystica e non mi riferisco solo a quello però anche proprio il fatto di come esperienza di vita cioè penso che sia stata per te anche anche per gli altri una cosa molto importante andare via di casa andare all'accademia cioè fai tutto un altro tipo di vita lì sì sì anche quello è vero il fatto di uscire di casa a 15 anni e tornare solo al weekend è difficile sì ma tu quando tornavi a casa il weekend facevi come tanti tuoi diciamo colleghi giocavi alla capitolina? sì sì giocavo con loro e poi lunedì tornavo in accademia pesante è comunque avanti indietro soprattutto per andare a Roma non era proprio dietro l'angolo sì ma per me era comunque meno difficile che era più vicino penso ai miei ex compagni che venivano dall'Aquila, Perugia, dalla Sardegna quindi loro non è che tornavano spesso a casa eh no certo e quindi per me è stato un po' più facile eh beh sì beh insomma sì anche perché Roma è abbastanza cioè è servita molto bene quindi è la capitale e sicuramente non era così drammatico raggiungerla il tuo allenatore Germán Fernández ex formatore degli allenatori di alto livello della federazione argentina è stato uno dei Pumas ed ex assistant coach dei Pumas com'è lui? è molto diverso da tutti gli altri allenatori che ho avuto a parte Marco Rucci che me lo ricordo un pochino però è molto diciamo tranquillo è uno che ti lascia provare che ti dà le tue opportunità e poi è molto disponibile sul fatto eh di farti crescere se hai bisogno di un aiuto eh per esempio fare dei schizzi in più o degli analisi video lui è sempre disponibile comunque cioè anche come come proprio come allenatore penso che sia molto in gamba molto molto eh cioè si è visto l'anno scorso l'anno scorso nessuno neanche noi ci aspettavamo di giocare così bene eh e sì è stata una rivelazione per noi cioè ha cambiato proprio il modo in cui vediamo un po' il gioco eh sì un club oltretutto il Via d'Anna dove c'è una percentuale di argentini molto forte molto sono tanti che soprattutto quest'anno con la nuova regola eh però ci sono ambientati bene quindi qua è una cosa qua a Via d'Anna è che la maggior parte delle persone si ambientano molto facilmente qua sì sì si sta bene a Via d'Anna personalmente mi trovo molto bene eh stando lontano dai miei genitori e un e uscendo dall'accademia è un posto che mi ha accolto veramente bene i tuoi sono sempre a Roma adesso sì però all'inizio erano andati in Kenya sempre per il lavoro di mio padre e io sono rimasto indietro ah ho capito altro allenatore che è quello della mischia è Ulysses Gamboa infatti dicevo tra parentesi ho scoperto che i suoi fratelli sono fratelli no? quelli che giocano ancora e allenano e le giovanili uno è suo fratello e l'altro è suo figlio ah ok dicevo aspetta quanti sono sti Gamboa l'altro giorno tutta la famiglia qua tutta la famiglia guardavo sul sito e a un certo punto ho visto ok l'allenatore è Gamboa poi il giocatore è Gamboa poi l'altro è Gamboa ho detto quanti sono quanti sono sti qua anche lui argentino un team veramente interessante quello del vostro club proprio per il numero di argentini io avevo incontrato anche Fito Caila si si un bel gigante a lui gigante uomone però persona d'oro si si anche lui è un è una bestia diciamo in campo però fuori dal campo è l'opposto è veramente una persona magica persona d'oro si ho visto mi ero trovato molto bene con lui perché persona proprio proprio posto insomma molto molto gentile anche si si senti vediamo un'occhiata diamo un'occhiata un po' alla vostra situazione alla classifica alle partite allora voi avete esordito cioè la prima giornata Colono Viadana avete fatto 27 a 27 quindi avete iniziato con un pareggio fuori casa andava anche bene poi Viadana Petrarca 14 a 41 ma sappiamo che Petrarca diciamo è un po' lo schiacciassassi di questo campionato si come lo è stato anche l'anno scorso poi dopo hanno perso in finale contro Provigo all'ultimo secondo proprio è stata una partita incredibile poi avete incontrato siete andati a Roma Lazio Viadana 24 a 34 che l'avete portata a casa con un bel 10 punti di scarto poi Viadana Laios Piacenza 26 a 35 Valoraghi Emilia Viadana 38 a 6 7 e poi anche con Fiamme Oro avete fatto un 27 a 24 quindi ve la siete giocata fino in fondo in classifica 7 ottavi con 9 punti pari a Laios Piacenza dici un po' com'è la faccenda com'è com'è giocare il top 10 con un con un club diciamo che è fortemente competitivo ma che se la gioca per essere a un buon a un buon livello in classifica secondo me stiamo passando un periodo un po' difficile è un po' difficile questa pausa che abbiamo avuto settimana scorsa ci ha aiutato un po' a staccare la testa e di ricominciare da capo un po' siamo partiti tutti con degli obiettivi un po' alti magari soprattutto su come abbiamo finito la stagione scorsa pensavamo di avere quella continuità però purtroppo sai quando una squadra da nulla gioca bene le altre squadre iniziano a guardarla e ci analizzano molto bene e adesso tocca a noi adattarci a quel cambio però dalla pausa che abbiamo avuto vedo un cambio soprattutto mentale da parte di tutti che vogliamo veramente cambiare questa situazione adesso giocheremo ogni partita come se fosse una finale perché è l'unico modo ma ascolta le problematiche che cosa erano dovute a stanchezza infortuni calo di forma non saprei dirti perché siamo tutti in forma abbiamo pochi infortuni per adesso per fortuna e la preparazione atletica è stata molto molto efficace durante l'estate secondo me dobbiamo solo mettere in campo il nostro piano di gioco quello che ci offre Germano e Ulisse e Gilberto Pavan e metterlo in gioco rispettarlo secondo me basta solo eseguire quello e non fare qualcosa in più e ne usciremo alla grande diciamo senti secondo te chi è che vince il campionato quest'anno per adesso come stanno andando le cose non posso dire altro che Padova Petrarca che hanno una squadra molto molto completa dappertutto anche le riserve che non giocano tanti di loro potrebbero giocare in altre squadre hanno una che potrebbe dargli fastidio e forse forse Reggio con tutti gli acquisti che hanno fatto quest'estate si sono rinforzati bene ho visto Rovigo che non è più forte come l'anno scorso anche loro hanno dato sono noti via in tanti molti leader però non bisogna mai parlare troppo presto il campionato è ancora lungo hanno fatto sì a questi buoni però perdendo anche molti leader come Antel e Massimo Troffi che sono andati a valorarli esatto anche Ippolito e Gianmarco Bianchi sono andati alle fiamme oro persone che erano molto importanti penso sì assolutamente assolutamente tra due giorni domenica giocate contro Lions Piacenza giusto? no Mogliano no Mogliano scusami sì no scusami giocate contro contro Mogliano sì Mogliano anche loro è una squadra diciamo con una posizione in classifica simile alla vostra sì vengono da una vittoria quindi vengono con qualche luce però anche loro hanno un po' di difficoltà a portare dei punti a casa quindi secondo me sarà una partita molto intensa e fisica e speriamo di portarla a casa placaggi 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 esatto loro sono messi bene anche loro sono in forma sono molto diciamo pari vostro sì sì sono alla nostra portata sarà una partita molto difficile quella secondo me quest'anno non ci sono più le partite facili con tutti con questa nuova regola anche dei stranieri ha alzato molto il livello del campionato eh sì sì quindi loro hanno un bel mix tra giovani e giocatori di esperienza e sarà una bella partita secondo me Fernandez vi fa giocare con qualche diciamo tipologia di gioco similare all'argentina non saprei dirti perché non ho non ho mai guardato l'argentina da quel punto di vista analizzandoli è un gioco molto veloce diciamo che vuole spostare tanto la palla far correre gli avversari come si è visto l'anno scorso quindi è molto impegnativo dal punto di vista fisico però anche anche mentale cioè dobbiamo essere più dobbiamo essere furbi noi e ogni cosa che facciamo abbiamo più opzioni quindi è sempre una una scelta abbiamo sempre una scelta da fare fratti Pippo Fratti l'ho chiacchierato l'ho incontrato anche a Parma alle Zebre e parlavamo della velocità di come si è velocizzato il gioco negli ultimi anni rispetto a qualche anno fa anche dove comunque era già molto dinamico come gioco ma negli ultimi anni e lui sosteneva che si sta diciamo evolvendo moltissimo sulla velocità d'uscita del pallone dalle mischie d'alle rante sì secondo me da quel punto di vista sono d'accordo e anche dal punto di vista fisico dei giocatori i giocatori sono molto più seguiti dal punto di vista medico cioè della preparazione e quello aiuta molto per velocità del gioco qua in Italia qualche anno fa era molto il gioco era molto basato sulla mischia guadagnare il calcio di punizione poi cacciare adesso vediamo delle squadre che giocano dalla loro linea di meta quindi c'è sempre quel adesso dobbiamo essere molto attenti a quello anche cosa ne pensi quest'anno sono cambiate le regole i 30 secondi per la mischia giusto sì e poi si ferma il tempo prima di ogni mischia è una cosa che sì aiuta il gioco però allunga molto le partite all'inizio del campionato si sono visti molti giocatori con i crampi che prima non succedeva così cosa ne pensi tu non cambia molto solo quel punto di vista lì che tanti giocatori all'inizio avevano i crampi diventa un po' troppo lungo diciamo diventa troppo lungo quindi saresti favorevole a ritornare alla vecchia regola sì molti tuoi colleghi me l'hanno detto anche perché in una partita di Colorno l'avversario del Colorno ha finito la partita in 13 perché aveva finito i cambi ed aveva degli infortunati e di conseguenza ha dovuto finire in 13 la partita perché non aveva più panchina non aveva più giocatori disponibili in quella situazione o aggiungi dei giocatori in panchina oppure ritorna come era prima penso che comunque sia un test che duri quest'anno e poi dopo un cambio lo devono fare perché tutto sommato viene per valucce viene fatto per velocizzare il gioco effettivo per avere tempi effettivi però di contro secondo me potevano allora dirottarlo invece che sulla mischia sui calci piazzati dove effettivamente si perdono dei tempi sono dei tempi lunghissimi capito che ti devi concentrare però dici ascolta in 40 secondi devi calciare cioè perché sarebbe più logico anche perché comunque la mischia è molto più impegnativa fisicamente sì oppure sulle rimesse laterali io avrei messo ecco anche anche sulle tusce ti sarebbe piaciuto giocare in mischia ti sarebbe piaciuto provare a giocare in mischia in realtà alla fine del secondo anno d'accademia avevano provato a mettermi tallonatore lì pesavo 105 kg era un bel bussolotto però poi quell'estate mi sono messo a dieta per entrare in accademia e da lì non sono più tornato basta finita la carriera del tallonatore esatto meglio così guarda meglio così senti test match passiamo parliamo un po' della nazionale del tuo amico Garbisi anche allora il primo il primo esordio è stato vabbè con gli All Blacks 9 a 47 la partita tu come l'hai vista cioè come hai visto l'Italia più che come hai visto la partita quindi cosa ne pensi dell'Italia l'ho vista molto bene l'ho vista molto bene soprattutto contro gli All Blacks la migliore squadra al mondo una difesa che non si era mai vista prima molto aggressivi vincenti sull'uno contro uno ero molto felice di vedere una nazionale così era da tanto tempo che non li vedevo così carichi per giocare poi secondo me l'unica cosa che possono migliorare adesso è dal punto di vista offensivo però quello lo riguarderanno lo riguarderanno gli allenatori comunque insomma ti ha fatto una buona impressione molto buona adesso sono curioso di vederli sabato contro l'Argentina domani domani contro l'Argentina Treviso mi sarebbe piaciuto andare a vedere la partita ma i biglietti sono volati via nell'arco hai visto? nell'arco di poco pum non c'erano più biglietti e quindi la guarderò in televisione dopo di che c'è la partita a Parma che è l'ultima contro il come si chiama l'Uruguay sì più alla nostra portata pensi? secondo me sì però non bisogna mai sottovalutarli secondo me perché se visto nell'ultimo mondiale hanno vinto sono riusciti a vincere contro i Fiji che un anno prima gli avevano dati 70 punti quindi secondo me non bisogna mai sottovalutarli poi è una squadra che non non è molto vista in giro per il mondo quindi non sai per dire sì sì dei partiti dell'Uruguay se ne sono viste poche cioè io personalmente non ne ho mai vista una quindi non so come come siano loro come giochino come come tutto la cosa che è stata un peccato è stata sono stati gli ultimi 20 minuti dell'Italia contro gli Oblex dove hanno preso tutte quelle mete eh sì purtroppo però quello che hanno fatto prima è stato un gran passo in avanti rispetto all'anno scorso sì sì assolutamente secondo te è stato dovuto anche a un calo fisico? un po' sì però anche un po' mentale secondo me anche penso che quelle partite lì non forse non della concentrazione però ogni volta che prendi palla che difendi tanto bene però alla fine non riesci a portare punti a casa spesso ti demoralizza e secondo me è successo un po' perché hanno sì l'Italia meritava disegnare più punti secondo me sì anche perché loro comunque hanno commesso diversi errori sì secondo te gli All Blacks si aspettavano un'Italia così così aggressiva? secondo me no e si è visto si è visto all'inizio con dei giocatori che facciano degli errori proprio hanno perso la palla troppo facilmente una cosa che non abbiamo non ho visto i All Blacks fare da un po' sì sì infatti l'Italia è riuscita a metterli sotto pressione sì domani vediamo con l'Argentina cosa succede anche l'Argentina che viene da una sconfitta contro la Francia di poco saranno cariche anche loro ah beh sai credo che in quelle occasioni di questi test vogliano tutti portarsi a casa dei gran risultati perché comunque cioè sono interessanti per i ranking per un sacco di cose chiaramente arrivi molto più carico se ti sei portato a casa una partita importante sì sì senti programma futuro allenatore per adesso molto futuro nel senso che sei così giovane per adesso sì da quest'anno il rugby viadana mi ha dato la possibilità di allenare l'Under 11 e per adesso sono molto contento sono molto contento con i ragazzi con i bambini che sto vedendo una crescita in loro che mi rende orgoglioso posso dire ti piacciono i bambini sì ti fanno impazzire che gli devi correre dietro sì sono bravi sono bravi ne hai tanti però è bello vedere che no purtroppo siamo siamo solo in 11 però pochi ma buoni diciamo pochi ma buoni cosa stai dicendo dimmi dimmi sì è bello vedere che riesco a trasmettere il mio sapere regbistico a dei ragazzi che aveva hanno l'età che avevo quando ho iniziato quando è cominciato esatto quindi è adesso il momento più importante per farli innamorare della sport no no ma è bello poi i bambini sono sempre gioiosi festosi allegri quindi è il massimo della vita sì sì bene senti io ti ringrazio è stata una cosa interessante soprattutto per tutti i tuoi giri che hai fatto da New York alla Francia all'Italia è stato molto piacevole però adesso che è finito finalmente speriamo incrociamo le dita l'incubo del lockdown magari riesco a fare un salto a Viadana oltretutto a Viadana si mangia benissimo nel Mantovano e quindi potrebbe essere una cosa vengo a vedere una partita così saluto te anche gli altri ragazzi che sono stati qui ospiti e mi fa sempre piacere ok grazie mille grazie mille di avermi chiesto di fare l'intervista figurati guarda è stato è stato un piacere anzi colgo l'occasione per dire una cosa iscriviti al canale fai iscrivere anche i tuoi compagni di squadra così aiutiamo il movimento a crescere capito è una cosa è un dovere civico reglisticamente parlando iscriversi al canale in maniera tale che ci sia più divulgazione e in più persone possano vedere tutte le vostre testimonianze ok sarà fatto sarà fatto grazie mille e buon raggio ciao ciao eccoci grazie mille 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 Grazie a tutti.